Ciao a tutti, bentrovati in questo nuovo video. Torniamo virtualmente nella casa del grande fratello VIP, ma parliamo veramente di coloro che stanno all'interno della casa. Sì, dei concorrenti che a quanto pare hanno vissuto dei momenti abbastanza spiacevoli in passato, ma soltanto adesso esce fuori la verità, la verità quella che viene a galla. C'è stato un periodo in cui i geffini non sapevano assolutamente cosa fare e la paura ormai aveva preso il sopravvento in questo senso. C'è stato poi un periodo in cui i geffini non sapevano assolutamente cosa fare e la paura ormai aveva preso il sopravvento. Poi con il trascorrere dei giorni e delle settimane la situazione è tornata alla normalità, ma ora a vuotare il sacco è stato un concorrente del programma che ha deciso di rilasciare una bella intervista a Superguida TV, dove si è concentrato su diversi temi. Questo ex protagonista del grande fratello VIP, prima di parlare dei concorrenti e del loro timore, ha anche voluto dire la sua sulla sua personale esperienza nella casa più spiata d'Italia, dicendo anche chi mi ha visto da fuori ha sottolineato che non ero io. Non è un programma che fa per me, perché non riesco ad assumere determinati atteggiamenti e a dire determinate cose per il semplice fatto che non voglio proprio ferire le persone. In un video mostrato non si è visto quanto detto, che da questo tipo di comportamenti, beh, io mi dissocio. E in particolare questo ex del grande fratello VIP era finito nel mirino per alcune frasi, tutte frasi dette davanti ad altri concorrenti, tutto in riferimento al fatto che il suo bisnonno praticamente picchiasse la bisnonna, la consorte quindi. Non mi hanno dato la possibilità di chiarire il mio concetto, ho solo raccontato che in passato accadevano certi comportamenti e la mia bisnonna accettava una situazione perché per lei era normale. Ma io sono per il rispetto della donna. Ma a Superguida TV tutte le attenzioni si sono spostate sulla paura avuta dai vipponi. A rompere il silenzio è Luciano Punzo, che ha parlato della frase delicata successiva al caso Marco Bellavia. Il caso Bellavia ha condizionato un po' quello che doveva essere il gioco. Poi è molto diverso entrare nel programma. Difficile allacciare i rapporti quando il gruppo è già coeso. Ho capito troppo tardi il meccanismo del reality, ma quest'ultimo è stato percepito dal telespettatore in maniera un po' diversa. Col tempo poi è tornato a quello che doveva essere il gioco. Subito dopo il caso Bellavia si aveva il timore di parlare. E Punzo ha concluso poi tutto il discorso dicendo questa è una cosa che mi è stata detta anche dai ragazzi che hanno vissuto in prima persona proprio quel momento. Per quanto riguarda la mia eliminazione, beh, ero sicuro di andare via perché ero l'anello debole per una questione di tempistiche. E questa è tutta la spiegazione fatta da Punzo appunto. Non oso aggiungere altro, vi chiedo soltanto un bel pollicione in su per supportare questa pagina, questo canale. Noi ci sentiremo alla prossima, mi raccomando un salutone da Max e a un prossimo video.